Diciamo che tra le parole forse più citate stamattina sono state standard, linee guida, punti di riferimento e l'attenzione verso i cittadini e le persone che utilizzano i servizi digitali. Tutto questo si inserisce all'interno di un percorso a livello nazionale che si intrapresa dal Dipartimento, quello di digitalizzare il paese dal punto di vista proprio dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Una delle cose che concretizza questo percorso di digitalizzazione è la definizione dei modelli standard. Ne abbiamo parlato anche prima negli interventi precedenti. È stato così per i comuni, è stato così anche per le scuole. In questi mesi il Dipartimento per la trasformazione digitale è partita anche nella realizzazione di un modello per il mondo della sanità, in particolare per il mondo delle aziende sanitarie locali. Noi come aziende siamo stati coinvolti in questo percorso. È stato sicuramente un piacere e anche un onore far parte di questo percorso e dare anche il nostro piccolo contributo in questo. e nel prossimo talk il collega Nicola ci parlerà del lavoro svolto per rendere conforme e plone a questo nuovo modello dedicato appunto alle aziende sanitarie. Prego ancora Nicola. Autogestione proprio. Eccomi di nuovo, purtroppo per voi vi tedierò altri 15 minuti, però adesso volevo parlarvi di come appunto plone si adatterà, perché in realtà ci stiamo lavorando ora, a queste nuove linee guida, quindi differenti linee guida, ma stesso CMS, per poterle affrontare e gestire. E quindi di cosa andremo a parlare? Rivedremo un attimo velocemente il modello comuni, andando a riprendere magari due o tre particolari visti prima. Parleremo di come fosse già avvenuta in realtà un'evoluzione spontanea di plone per rispondere alle linee guida delle ASL. Vedremo nello specifico il caso di ASL Ferrara, ma citeremo anche ASL Piacenza. E poi appunto come citava prima Stefano, arriva il modello ufficiale frutto anche di una serie di interviste dove abbiamo partecipato noi come fornitore, ASL Ferrara come appunto azienda sanitaria locale. E chiaramente poi vedremo come plone si andrà ad adattare a questo nuovo modello. E quindi da dove tutto è iniziato, il modello comune e la sua evoluzione, quindi lo scopo del modello, l'abbiamo citato prima, gli obiettivi e ovviamente la sua evoluzione delle linee guida e dei criteri di conformità. Quindi scopo del modello, insomma adesso andiamo veloce, tanto sono concetti che abbiamo già rimarcato più volte, la persona al centro, lo scopo quindi come viene citato qui è fornire al cittadino un chiaro punto di riferimento per trovare con facilità le informazioni di cui hanno bisogno. Quindi uniformità e sempre persona al centro. Questo lo ritroveremo pari pari anche nelle linee guida delle aziende sanitarie, perché lo scopo di tutto questo percorso di digitalizzazione è portare sempre la persona al centro di tutto. Quindi gli obiettivi del modello comuni, ma che saranno anche l'obiettivo del modello ASL, è conformità, quindi rispondere a determinati criteri per poter verificare e approvare insomma che quel modello rispetta le indicazioni del Dipartimento di Designers Italia e l'uniformità per ritrovare su tutto il territorio nazionale un'uniformità dei siti web di qualsiasi azienda sanitaria locale e in precedenza di modello per i comuni, scusatemi, l'EPA locali. Cosa è successo? L'abbiamo visto prima, l'evoluzione delle linee guida modello comune, un studio costante del materiale, adattabilità del team con un approccio di lavoro agile per poter rispondere più velocemente ai requisiti, Plone e la sua massima flessibilità e di conseguenza chiaramente anche l'evoluzione di Plone e io comune per tutte le pubbliche amministrazioni, abbiamo citato GDF, abbiamo citato prima Asferrara e anche altri tipi di IPA che hanno deciso di appoggiarsi a Plone e all'interfaccia volto che poi di fatto ci rende possibile, io comune, tutte le sue derivazioni. Quindi vediamo Plone e l'evoluzione spontanea per le aziende sanitarie, lo dicevamo prima, Asferrara e Aspiacenza. In realtà, prima che venissero pubblicate queste linee guida, avevano già deciso di intraprendere un percorso di adeguamento spontaneo sempre sfruttando il concetto di user centered. Quindi stesso motore, differente carrozzeria, una base di partenza identica però per degli scopi di utilizzo leggermente diversi perché ovviamente la necessità di un Asle, magari alcuni possono essere gli stessi di un comune ma di fatto poi molti altri cambiano e ovviamente il concetto user centered che abbiamo visto prima. Lo dicevamo prima, quindi stesso motore, quello che vedete qui è uno screenshot dell'home page di Asferrara, sotto questo che vedete c'è sempre Plone, poi in uno strato superiore troviamo l'interfaccia a volto che è l'interfaccia che permette poi di avere una forte usabilità anche lato redattore che è uno dei punti di forza di questo CMS e poi qua sotto ho messo con un punto interrogativo questo è il loghetto di io comune ma di fatto poi può diventare tante altre cose come appunto le soluzioni per le aziende sanitarie. Quindi stessa base di partenza, quello che vediamo qua è una scheda servizio, questo sempre preciso, sempre preline guida del modello sanitario e quello che vediamo invece sulla destra è la parte redazionale che appunto mantiene sempre la possibilità, da sempre guida il redattore in un inserimento sempre conforme alle linee guida, in questo caso non c'erano dei criteri di conformità ma c'erano comunque delle linee guida da cui prendere diciamo ispirazione. E dicevamo contenuti user centered, qui ho voluto mettere le due home page una di fianco all'altro per far vedere un po' come è cambiato proprio anche l'approccio di layout, vedete questa era l'home page precedente, diciamo che c'erano già delle voci che poi sono diventate ufficiali anche nelle linee guida come il come fare per, vedrete lo ritroveremo poi anche nelle linee guida ufficiali, quindi comunque As Ferrara aveva già un approccio interessante orientato al cittadino ma vedete poi notate come qui in realtà è stata estremamente semplificata tutta la home page rendendo queste card vanno mirate a portare il cittadino, la persona interessata direttamente a delle sezioni facilitate e quindi questo era già un percorso estremamente avanzato e da cui poi il motivo per cui siamo stati chiamati insieme ad As Ferrara a partecipare a questo workshop, a questo incontro con il DTD perché era già stato fatto un grande lavoro senza che fossero presenti queste linee guida ufficiale. Ma lo dicevamo appunto arriva il modello delle aziende sanitarie e come è arrivato? Siamo stati appunto contattati per partecipare a queste serie di interviste e poi è avvenuto il rilascio ufficiale che chiaramente ancora diciamo in una versione molto embrionale si sta evolvendo però è già presente con tutta la sua documentazione consultabile online. Cosa è successo in questa intervista? As Ferrara come azienda sanitaria e noi di Rettartolo ovviamente come fornitore hanno partecipato altre ASLE con altri fornitori ed è stata fatta fondamentalmente un'intervista per recepire chiaramente le esperienze pregresse che derivavano ovviamente dalla realizzazione del portale attuale di As Ferrara e anche le necessità specifiche future, raccogliere feedback sia delle aziende che dei fornitori per capire come revisionare il materiale che il Dipartimento di Trasformazione Digitale e il team di Designers Italia stava già realizzando ed è stato posso dire un'esperienza molto gratificante soprattutto per il fatto che siamo stati coinvolti vuol dire che avevamo lavorato molto bene prima sia noi e ovviamente As Ferrara non solo noi che io ci tengo a sottolineare e arrivano il primo febbraio del 2024 viene ufficialmente lanciato il modello delle aziende sanitarie. A che cosa serve? Qua ho messo un estratto magari ne leggo proprio un filetto giusto perché magari non so se riuscite a leggerlo tutti. Il modello permette di creare siti web delle ASLE che rispondono ai bisogni degli utenti chiari e semplici da usare e navigare. Il concetto è lo stesso del modello comuni cioè creare uniformità con il cittadino al centro qua poi dopo quando saranno messe a disposizione le slide c'è anche il link a tutto il materiale ufficiale che è consultabile liberamente. E cosa abbiamo a disposizione? Chiaramente il Dipartimento di Designers Italia come per il modello comuni ci ha dato a disposizione tutta una serie di materiali a partire dall'architettura delle informazioni cioè come è strutturato il sito, come devono essere strutturati i menu, le tipologie di contenuto, le proprietassonomie, una libreria di interfaccia di componenti, cioè ci dicono anche come deve essere strutturato il layout e la grafica, questo avveniva anche per il modello comuni ovviamente e ovvio anche dei prototipi navigabili per potersi rendere conto di come poi varie pagine web dovranno essere consultabili. L'architettura delle informazioni adesso lo vediamo velocemente che cos'è? Banalmente è un foglio di calcolo che viene messo a disposizione dove vengono elencate tutta una serie di informazioni. Prima di tutto l'alberatura del sito, cioè sono definite chiaramente le voci di primo livello eccetera eccetera. Nuovi e vecchi tipi di contenuto, schede servizio, notizie ma tanti altri e ovviamente le tassonomie che vengono associate a questi tipi di contenuto. L'abbiamo citato poco fa, ecco questo è l'esempio dell'alberatura di un sito ASL, vedete qua ho messo proprio per conoscenza le voci di primo livello, quindi vengono definite in maniera chiara quali sono le voci che devono stare nel menu principale, come nel modello comuni, stessa cosa, stesso approccio, stesso metodo anche di rilascio del materiale, qua c'è sempre il link a disposizione per andare a consultare liberamente. E architettura delle informazioni, nuovi e vecchi tipi di contenuto, vediamo per esempio la scheda servizio come per il modello comuni viene portata anche nel modello ASL, ma arrivano altri content type che sono nuovi, il come fare per, cioè quello che AS Ferrara metteva nel sito che abbiamo visto pre-aggiornamento al sito web che è attualmente pubblicato, arriva il content type struttura e anche tanti altri content type, content type o tipi di contenuto. Questo che vi ho messo qua adesso è un esempio, scusatemi, di tipo di contenuto come fare per, questo descrive, adesso non so se riuscite a leggere, ve lo leggo io, tipologia che descrive i passi di una procedura che gli utenti delle ASL devono seguire per ottenere qualcosa, eccetera. Allora, vedete chiaramente nel foglio di calcolo vengono definiti tutti gli elementi che compongono questo contenuto, a partire ovviamente dal titolo, sottotitolo, descrizione breve, eccetera, eccetera, definendo quali sono obbligatori e quali sono facoltativi e definendo anche che tipo di valore è, se è un testo o se è una relazione con altri tipi di contenuto. Questo avveniva, ribadisco, anche nel modello comune. Qua vediamo velocemente un modello, questa è una struttura, però adesso vado avanti perché tanto insomma il concetto l'abbiamo capito, e viene definita sempre nell'architettura delle informazioni anche la tassonomia, cioè quello che vediamo qua ad esempio viene definita la tassonomia dei servizi o la tassonomia delle strutture, quindi insomma vengono date delle indicazioni molto puntuali e precise che ci permettono di realizzare il sito sapendo esattamente cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo arrivare. E quindi, dicevamo prima, anche layout, cioè non solo contenuti, ma ci vengono date indicazioni molto precise anche per come deve essere strutturato. E questo avviene con Figma, dove è possibile consultare le librerie, i componenti e i prototipi navigabili. Adesso, molto velocemente, questo è l'esempio di home page che è stato rilasciato per il modello delle ASL, vedete di fatto come bisogna ricreare il sito web a prescindere poi dal CMS che si andrà ad utilizzare. Questo era sempre uno screenshot per farvi vedere, questo è un come fare per, è un esempio appunto, di un content type, purtroppo non riuscivo a mettere tutta la pagina, ho dovuto prendere solo un estratto. Quindi, veniamo a Plone e alla sua adattabilità al nuovo modello ASL, quindi open source e velocità di azione ci permetteranno di reagire velocemente per creare la nuova versione adatta al modello ASL. Quindi Plone volto sempre come base di partenza, integrazione e creazione dei nuovi content type, dei nuovi tipi di contenuto che sono richiesti, l'applicazione dei nuovi layout, quindi il lavoro front-end e ovviamente la revisione manuale dei contenuti perché ad esempio AS Ferrara dovrà fare una revisione, una rimappatura dei contenuti per poter rispondere a queste nuove linee guida. E quindi l'abbiamo visto poco fa, rimane sempre Plone come CMS, come motore e abbiamo sempre l'interfaccia volto che dialoga con Plone via API e questo ci permette di avere grandi spazi di manovra e una gestione molto agile anche della parte redazionale, quindi ad esempio i redattori di AS Ferrara non troveranno un'interfaccia rivoluzionata, troveranno la stessa interfaccia semplicemente con un riadattamento di campi obbligatori o facoltativi e i nuovi content type che dovranno essere creati ovviamente da partire da zero. Ci sarà un'integrazione dei vecchi content type, quindi ad esempio gli schede di servizio, rimarranno schede di servizio, saranno semplicemente rielaborate o integrate di quello che sarà necessario, ci saranno le unità organizzative ad esempio tipo per i comuni sono principalmente uffici, anche qua la ristrutturazione sarà a livello di campi obbligatori o meno che cambieranno e il content type sarà solo aggiornato, mentre invece ci saranno nuovi content type come struttura ma in questo caso il fatto che partiamo da Plone e dialoghiamo via API con Volto, per un'unità organizzativa ad arrivare a una struttura possiamo sempre partire magari dallo stesso content type e andarlo a rimodellare per poi ottenere di fatto un content type completamente diverso, quindi questo insomma ci dà una grande potenza di fuoco su intervenire anche in maniera veloce e pratica per dare ai redattori comunque uno strumento che già conoscono. L'applicazione dei nuovi layout, questo che vi sto mettendo è Figma, questo che vedete sono tutti kit, cioè un frontendista, cioè quindi quello che va a sviluppare l'interfaccia navigabile può recuperare da questa libreria tutte le varie parti del sito e ricomporla insomma per poi di fatto avere il sito web, quello che noi tutti navighiamo quando siamo su un browser e con una connessione web e questo era lo stesso screenshot solo per farvelo vedere un po' meglio e quindi per arrivare oramai verso la conclusione un po' più veloce perché dobbiamo recuperare tempo, ma troppo veloce ditemelo che se no rallento, cioè rallento anche il battito cardiaco. Quindi siamo arrivati alla nascita di Io Sanità, Io Sanità è un'evoluzione di Io Comune che è un'evoluzione di Plone, ovviamente Io Sanità ancora non c'è, ci stiamo lavorando però grazie comunque a questo passaggio saremo in grado presto di rispondere anche alle richieste delle ASL, delle aziende sanitarie locali ed eventualmente chissà cosa altro perché poi arriveranno probabilmente anche le linee guida per i musei civici e non si esclude che arriveranno, che possono arrivare altre linee guida, quindi di fatto con questo approccio, questo metodo di lavoro noi siamo sempre pronti a rispondere a questo cambiamento continuo e ovviamente c'è la parte che ho tenuto per ultimo per collegarmi al prossimo intervento di Luca Dallacqua della Sferrara, rimane la parte redazionale e di studio delle linee guida e questo chiaramente non lo fa lo strumento ma lo fa la persona con l'ausilio dello strumento, quindi ci sarà da fare un'analisi, una mappatura dei contenuti esistenti, una revisione redazionale ma appunto per questa parte qui non voglio andare avanti perché lascio appunto la parola a Luca che ci potrà raccontare la sua esperienza diretta, prelinee guida modello ASL, l'esperienza del workshop con il DTD e quello che avverrà oggi fino alla pubblicazione del nuovo sito. Spero di non essere dato troppo veloce, di non avervi ubriacato di parole, però insomma volevo compattare. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.